Come è il tuo bilancio di questa trasferta? Sono contenta di aver controllato le emozioni in qualificazione, non sono riuscita a fare lo stesso in finale, però va bene lo stesso, va benissimo. Sei arrivata a Escristuna, grazie a chi? C'è qualcuno che vuoi salutare? Sì, senza altro voglio ringraziare innanzitutto il mio allenatore, la mia famiglia che mi sostengono sempre, la mia società e i miei compagni di classe, le mie sei migliori amiche. Hanno abusato che voleva essere qui e mi ha aiutato in tutto e per tutto mentalmente e fisicamente a essere qui e basta, basta, basta. Cosa ti porti a casa da questa esperienza? Allora, beh, senza altro tanta voglia di fare, di migliorare in allenamento e in gara. E' un'esperienza dal punto di vista emotivo, dato che era molto che non riprovavo l'emozione di gareggiare ad alti livelli, l'emozione che ho provato qualche anno fa a gareggiare i primi campionati italiani. Questa esperienza mi aiuterà nel futuro, quando si ripeterà questa occasione, di magari controllare di più le emozioni e canalizzare la mia energia nella gara piuttosto che in altro. Ciao!